nel 1987 chiudeva lo zoo di torino oggi a 30 anni di distanza l'attuale giunta comunale facendo proprio le decisioni di quella precedente è intenzionata a portare avanti il progetto del nuovo zoo il sito prescelto è ancora parco michelotti un'area di grande pregio naturalistico sulle sponde del po nel pieno centro della città che peraltro da 30 anni attende di essere riaperta ai cittadini e che rischia invece di essere privatizzata no agli zoo no alla svendita del patrimonio pubblico no alla privatizzazione dei beni comuni sabato 14 ottobre dalle 14 alle 17 presidio no agli zoo in piazza gran madre a torino manifestazione promossa da empa lac love leal lega ambiente l'aquilone lida oipa pronatura e sos gaia in qualità di cittadini ambientalisti animalisti libertari difensori della tutela dei beni comuni da qualunque forma di speculazione di aggressione privatistica non accettiamo e mai accetteremo che le logiche del mercato schiaccino i diritti fondamentali degli individui indipendentemente dalla specie a cui essi appartengono per informazioni nozotorino.org non ci fermeremo assolutamente fin tanto che il progetto non verrà chiuso non ci fermeremo grazie 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 a tutti.